Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Avvocato Sartori, buongiorno. Il 20 gennaio è stato eletto segretario cittadino della Lega Nord. Che strada percorrerà il carroccio in questa nuova era? La strada che mi auguro si percorrà è una strada che porti la Lega Vogherese al primo partito. Io credo che si possa lavorare in questa direzione. Io credo che a Voghera si possa arrivare intorno anche al 20%. Quindi particolarmente ambizioso? Ma no, io credo realista. In questi ultimi giorni si è parlato molto di una spaccatura interna alla Lega Vogherese. Allo stato attuale quale clima si respira in sezione? Il clima è quello che deve essere quando c'è un cambiamento importante. Il clima è quello di riuscire a lavorare per la città, fare iniziative come la raccolta ambientale che è andata molto bene e sarà rifatta. Queste sono le iniziative, situazioni particolari, quando ci sono dei cambiamenti naturalmente, ci sono frizioni o fazioni, ma poi sono stato eletto in maniera democratica con la maggioranza dei voti. Quindi si va avanti e mi auguro che anche la parte o quella piccola parte si adegui all'indicazione, all'indirizzo del segretario. Via i ladri dalla Lega. Una scritta è la scritta apparsa qualche giorno fa sui muri accanto alla sezione Vogherese. Si è fatta un'idea di chi possano essere gli autori di quelle scritte e a chi siano riferite? Guardi, sinceramente no, credo che siano così i soliti balordi che vogliono destabilizzare un clima di confronto politico se interno che esterno della Lega. Quindi sono stati anche denunciati o comunque mi risulta che abbiano anche visto chi ha fatto queste scritte e mi riferisco alla seconda volta perché due volte sono apparse queste scritte. Mi auguro che non accada più. A proposito di scritte, in questi giorni è apparsa una svastica disegnata sopra una scritta pacifista sopra una torretta della centrale elettrica di via Barbieri. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile a Voghera. Bottini l'ha definita un'offesa la sensibilità e la dignità di chi crede nella democrazia e disapprova i crimini compiuti in Italia dal regime fascista. Lei cosa ne pensa? Va immediatamente cancellata come ha chiesto Bottini? Io credo che sì, che queste forme di estremismo sia di destra che poi anche di sinistra qualsiasi forma di estremismo vada condannata. Alle comunali della prossima primavera in provincia di Pavia Lega Nord e Forza Italia saranno alleate. Come la vede questa alleanza? Penso che sia una situazione naturale considerando la regione Lombardia, considerando la Liguria, considerando il Veneto e se il segretario provinciale Mora e il coordinatore provinciale Barbieri hanno trovato questo tipo di accordo, benvenga perché di fatto l'antagonista politico è il PD. E quindi non si capisce le divisioni, certe divisioni poi chiaramente favoriscono il cosiddetto terzo incomodo. Quindi a questo punto se si è giunto a questo accordo, Vogheva non è fuori dalla provincia e quindi la linea sarà quella. E Toriani? Toriani a questo punto non rientra, non penso che rientri in questa situazione. Il discorso è che a Vogheva il 17 febbraio ci sarà un appuntamento importante, ci sarà l'udienza al TAR, quindi io credo che poi certe discussioni debbano essere rimandate a tempo debito. Infatti li avrei proprio chiesto, ci siamo quasi, insomma il 17 febbraio ci sarà la quasi sicura, convalida da parte del TAR di quello che è stato il riconteggio della Prefettura. A livello provinciale sappiamo che Lega Nord e Forza Italia saranno alleate, mi sta confermando quindi che a livello cittadino in caso di un ritorno alle urne, anche nella nostra città, Lega Nord e Forza Italia saranno nuovamente unite, giusto? Sto dicendo che il 17 ci sarà quest'udienza, sto dicendo che non si sa però cosa succederà, nel senso che probabilmente al 99% ci sarà un commissariamento qui a Vogheva, perché poi la legge è chiara, non so però se ci sarà un secondo turno, un rinforcimento del secondo turno di ballottaggio, a quel punto i giochi erano stati fatti per tempo, oppure ci sarà una nuova elezione ripartendo dal primo turno. Quindi adesso la domanda che lei mi fa è un po' prematura, dobbiamo vedere innanzitutto quale turno bisogna fare, o il primo o il secondo, e in che anno avverrà questo, se nel corso di quest'anno o magari anche fra un anno. A sentire il Partito Democratico sembra che sia tutto molto imminente. Eh beh, ma loro fanno la loro partita, nel senso che veramente sono di parte, ma poi ci sono dei tempi tecnici che devono essere rispettati, quindi anche loro lo sanno. Ecco, a distanza di sette mesi dal ballottaggio dello scorso anno, tenendo conto che Gezzi aveva a questo punto, insomma, se il Tar confermerà il tutto, aveva ottenuto più voti di Torriani, pensa che la Lega abbia fatto qualche errore di valutazione nel scegliere il proprio candidato? Penso proprio di sì. A questo punto sì, perché si è arrivati terzi, anche se di nove voti. E quindi, probabilmente, la nuova situazione che si è creata è anche frutto di quella sconfitta, che non è più una sconfitta a questo punto al ballottaggio al secondo turno di 11 voti, ma una sconfitta al primo turno fuori per 9 voti. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.